Tanti anni fa, io ringrazio il sindaco, ringrazio Battista, ringrazio voi tutti, tanti anni fa noi abbiamo cominciato questa avventura e lo spirito era quello dell'aggregazione. Poi l'aggregazione è diventato un punto di forza di questo progetto e dall'aggregazione è venuta fuori questa volontà da parte di tutti di fare qualcosa per la cittadinanza. Lo spirito che ci ha animato fin dall'inizio è stato questo. Io veramente mi sento di ringraziare tutti voi, sia il pubblico che il privato, che tutti gli imprenditori che hanno creduto a questo progetto, che non era facile. All'inizio con Franco dicevamo sempre se ci credete non dovete avere fretta, dovete pensare che questo progetto prima o poi verrà fuori, perché l'azienda che stava qui dentro è sparita e ci avrebbe lasciato questo bubone per sempre, per tutta la vita e quindi noi credo che faremo bene anche perché, e questo è un po' il mio pallino, non c'è stata dall'inizio una sola virgola di cambiamento, di mutamento di questo progetto. Non l'abbiamo dovuto adattare ai tempi nuovi, ad altre soluzioni, anche al terremoto che ha colpito fortemente questa regione, perché questo progetto calzava bene con tutto, era fatto bene e quindi non l'abbiamo dovuto minimamente cambiare. Grazie a quelli che sono subentrati dopo, grazie a tutti quanti perché adesso finalmente l'iter è concluso, grazie anche al sindaco di prima, Piero Celani, grazie al sindaco di adesso che ci ha creduto e sono convinto che noi faremo bene e spero anche io di ricordare questo progetto finito. Grazie a tutti.